Premio Diego Velasquez 2017 al maestro Fortunato Frontoni, ritira il premio il maestro Fortunato Frontoni, consegna il premio il dottor Vincenzo De Marco per il comitato scientifico d'onore. And the Diego Velasquez award 2017 goes to the master of art Fortunato Frontoni, receives the awards Fortunato Frontoni, gives it Vincenzo De Marco.